Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 12 della Betone del Brennero rallentamenti per un senso unico alternato tra Giardinetto e Popiglio. In a 12 fare attenzione per un veicolo fermo tra la barriera di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra lo svincolo di Firenze in Pruneta e Sacasciano Nord in direzione Siena. Sul raccordo Bettolle-Perugia riduzione di carreggiata per il ripristino di un incidente tra Castiglion del Lago e Tuoro in direzione dello svincolo di Ponte San Giovanni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina domani a Firenze scatteranno i provvedimenti per la nuova viabilità in via Valfond e via Nazionale in zona stazione. Buon versi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!